Fumata finalmente bianca per il Lanciano, col nuovo allenatore che si è fatto desiderare a soli tre giorni dal ritorno in campo e che ora è ufficiale, lunga roulette di nomi papabili mister graditi al caso rosso-nero ed ora finalmente l'ufficialità. La squadra orfana di mister Bellè esonerato dal vulcanico presidente Pincione che si è allenata sotto gli ordini del neopreparatore atletico caporusso in trattative serrate da parte del DG Apaolo e del DS Dorazio, ovviamente sempre in collegamento con il numero uno d'oltreoceano, è stata affidata a Pedro Pablo Pasculli, nato nel 1960, ex calciatore argentino, ruolo attaccante, campione del mondo con la nazionale argentina, la famosa Selecione, nel 1986. La trattativa ha avuto qualche intoppo ma è arrivata comunque a buon fine, dunque Pablo Pasculli dirigerà il Lanciano e sarà in sede a partire da domani. Pasculli che da giocatore è stato bandiera del Lecce negli anni ruggenti in giallo-rosso ha allenato in D in eccellenza nei settori giovanili, soprattutto quello del Lecce e anche all'estero, tra Albania e persino Uganda. Uomo comunque d'esperienza chiamato a soddisfare gli appetiti famelici di una dirigenza che dopo esoneri e colpi di scena continui non sembra concedere sconti. Il Lanciano ora è in nuove mani, le ennesime. Il futuro lo scopriremo solo vivendo.